Come tutti sapete dal 1 maggio del 2016 su Raioyo verranno abolite definitivamente le pubblicità nei programmi per i minori. E questa è una grande notizia. E allora ci siamo chiesti, ma perché non andare oltre ed elaborare un nostro progetto di legge che vietasse definitivamente in tutte le televisioni e canali tematici le pubblicità per i minori fino ai 10 anni? E quindi l'abbiamo elaborato. Potete leggerlo, potete condividerlo, dacci i vostri suggerimenti in modo che facciamo un progetto di legge, elaboriamo un progetto di legge ancora più ampio e interessante. Vi aspetto sull'Ex.